Cosa di us, sono Tom. Arlie, subito. Arlie! Arlie! Duffne, va a cercare Arlie. Ma sta preparando un toast, con l'ultima fetta di pane all'ovetta. Io ho avuto sette figli, in modo che se uno si fosse perso, gli altri sei lo avrebbero cercato. Vai. Così lo troverò ancora qui, quando ritorno. Giorgi, devi andare a cercare Arlie, subito. Io ho gli allenamenti adesso. Papà ha detto precisamente. Duffne, dobbiamo cercare Arlie, e Giorgi è la più brava a farlo. Ok, d'accordo. Un minuto, prego. Vai. Louis, Beast, avete visto Arlie? Io sto per uscire, devo andare ad allenarmi. Che state facendo? Cuociamo la pancetta, ma non è croccante. C'è scritto due minuti al microonde, ma non quanti minuti al sole. E tra 30 secondi noi la mangeremo lo stesso. Vogliono Arlie al telefono, mi aiutate a cercherla? È una missione importante e potenzialmente pericolosa. 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 Non ti deluderemo. Guarda! Un elmetto! Vai, prendiamo a testate qualcosa! Chiamata per Arlie! Rachel, va a cercare Arlie. Ha una chiamata. E da chi? Dagli anni 90? Nessuno usa più il telefono fisso. Rachel, io sto facendo il bucato. Va a cercare Arlie. Ehi, Ethan, chiamata per Arlie. Non la trovo, l'ho cercata ovunque. Hai guardato in camera? Sappiamo tutti e due che non l'ho fatto. Ehi, Arlie, telefono. Ho da fare. Sto gonfiando i palloncini. Le vuole lasciare un messaggio? Mi scusi se hai aspettato così tanto. No, non è un dormitorio universitario. Ok, sta chiamando per l'invenzione che ha presentato alla baia palla di cannone e vorrebbe... Sì, sono Arlie. Sto scherzando? Davvero? Davvero? Grazie! Ragazzi, andremo all'acquapark! Non corrono soltanto per le ciambelle? Che novità! Sì! Arlie e le vacanze all'acquapark a Disney Channel. Grazie! Grazie.